Onorevole Cattaneo, vorrei chiederti qualche cosa sulle rinnovabili perché essenzialmente noi abbiamo messo tantissimi soldi all'interno di questo comparto e ricordiamoci che nonostante ci siano pannelli solari ovunque, anche paleoliche o chissà cos'altro, le cartiere per esempio sono a rischio chiusura. Cosa si fa? Si riesce a alimentare un'azienda energivora con le rinnovabili? Ecco allora abbiamo messo pannelli dappertutto e parliamo molto di rinnovabili ed è giusto farlo, ma è sbagliato illudere le persone perché dire che oggi con le rinnovabili possiamo mandare avanti le industrie pesanti del paese è un'illusione perché le rinnovabili non hanno ancora un'efficienza paragonabile con altre forme di produzione di energia termica perché le rinnovabili sono anche intermittenti, non possiamo dare piena continuità perché dipendono dal sole, dal vento, dall'acqua che non sono di per sé diciamo continue, quindi ci sono una serie di tematiche tecniche che vanno ancora consolidate. Poi certo noi di Centrodestra diciamo il futuro sono le rinnovabili, il futuro è la sostenibilità ambientale, ma noi vogliamo arrivarci con un patto con l'industria, non con una conflittualità cittadino-industria nel nome di un ambientalismo stupido, anzi io sono straconvinto che le aziende sono le prime che tutte quante si sono reinventate, hanno pensato a come diventare green, come rendere più puliti i propri processi industriali, certo non possiamo però staccargli la spina perché bisogna tutti andare in bicicletta e consumare nulla. L'aziende oggi hanno bisogno ancora di energia termica, l'Europa ha indicato comunque il gas e il nucleare come energie pulite perché sono quelle che producono minor CO2 rispetto alle altre inquinanti, qual è il grande assente dell'Italia? Che noi non abbiamo una diversificazione delle fonti, abbiamo detto di no a tutto e qua ci sono responsabilità colpevoli, chiare, noi di Centrodestra abbiamo sempre invece lavorato per i sì per provare a una diversificazione delle fonti, noi invece ci siamo trovati fragili perché dipendenti tutto e solo dal gas e tutto e solo dal gas russo, questo è il nostro tallone da kill, figlio di una politica dei no che per troppo tempo qualcuno, la sinistra in particolare, ha portato avanti, speriamo di cambiare marcia da qua invece in avanti. Assolutamente d'accordo. A fronte di quelli... ... ... ... ... ... ... ...